Domani, 20 ottobre 2016, sono esattamente 14 giorni che io ho comunicato alla Chiesa, nella persona del decano di Saronno, Monsignor Angelo Centemeri, la mia sicurezza è che la parousia di Gesù, attesa dalla Chiesa, era avvenuta in me il 4 giugno del 1940, poiché io vedevo compiute da me le cose fondamentali che erano attese fatte da Gesù. Vediamo un po' come ne ho scritto io su un libro che potete leggere, se volete leggerlo tutto, su isu.com barra amoramode, intitolato Le 42 cifre del nome segreto di Dio. Vediamo direttamente che cosa ho scritto. Sulla copertina l'autore è Morpheus, qui perché è un po' coinvolto un aspetto di caccia all'eletto. Scrivo sulla traccia della Kabbalah di Israele e non di stupidaggini, anche se si ricerca usando analisi codici alfanumerici, le 42 cifre del nome segreto di Dio. Il mondo è come una maglia a un solfilo e con nodi che sono sciolti solo dal capo giusto. Cominciò a leggere dalla pagina 96. Il 29 gennaio 2002, sesta piaga, gli ascessi, attentato a Romano e Gesù, che sparisce dalla sua croce. Il diavolo, dice Ro, fattolo scacciare dal coro di una chiesa essenziale alla fede, da Don Carlo aveva avuto la fides et razio, cercò di ucciderlo veramente. Lo fece investire da un grosso pullman mentre usciva dall'androne. Ro fu salvato e allora Satana se la prese col Gesù di legno che annichilì nello stesso tempo nella chiesa di fronte e si bloccò l'orologio del campanile. Qui vedete nella fotografia l'automobile investita Romano ha 23.380 giorni e sostiene che il numero mostra con 20.000 le due aggressioni alla dimensione reale assoluta 10 elevato a 4. 33 volte il numero assoluto 100 indicherebbe che in assoluto l'evento riguarda la vita dello stesso Cristo. All'interno dello stesso dato 38 decine direbbero che uno è nato nel 38, Romano, ma è un 10 e ha di certo la dimensione di Dio. qui non è scritto, ma l'altro in Genesi 38 è Gesù che è il trentottesimo a partire dal Padre Vero in Genesi 38 che è Giuda fino alla nascita di Gesù trentottesimo secondo il racconto genealogico fattone da San Matteo. Romano dice che questi tre eventi in uno solo tentativo di togliere di mezzo lui, fallito tentativo di togliere di mezzo il Gesù di legno riuscito e arresto dell'orologio sono la solita cosa che succede a lui perché è tre in uno spettacolare l'incidente ma anche la sparizione del Cristo ligneo in chiesa stupefacente che si sia come fermato il tempo per questi ascessi della fede esso resterà fermo nove mesi poi Ro digiunerà per far ridare da Gesù la vista a un cieco nato e l'orologio ripartirà da solo come se la fede avesse ottemperato agli ascessi nella fede la pagina dopo si rifà alla data 3 10 2002 Romano ha preso coscienza sono l'eletto ha 23.626 giorni che per lui indicherebbero l'intero prendere corpo 23.000 della quantità assoluta 100 in tutti i possibili 6 versi 600 riferita al Dio il cui valore numerico cabalistico è 26 questa è la data in cui finì di scrivere il primo libro sulla sua vita ma è anche la data del compleanno numero 42 la cifra segreta di Dio della signora del rosario M.T. Legnani dopo l'investimento fu costretto a riposare e a curarsi si recò a Cunardo dai suoi amici che abitavano di fianco a lui a Saronno e che avevano aperto una trattoria di nome Tavernetta Greca aveva sempre notato molte cose straordinarie nella sua vita ma mai aveva avuto l'ardire di immaginarsi il Cristo vivente l'incidente di cui fu vittima gli tolse ogni dubbio perché la coincidenza del suo pericolo mortale e la sparizione del Gesù in chiesa staccato dalla croce e portato via gli fecero finalmente capire come la provvidenza avesse lasciato portare via il Cristo di legno e non quello vivo disprezzato dalla Legnani fu proprio la scrittura del libro sulla sua vita che poi lo portò a scorgere tutto il piano contenuto in essa la data in cui finì il libro e prese coscienza di sé fu dunque proprio quella della nascita della sua guida la sparizione del Cristo di legno e la Legnani interferirono in un modo stupefacente ma per forza persino sulla sua croce Gesù citerà le bacchettate le legnate de la ma che sa legnani bacchettare ni le parole furono e lì e lì le ma sa bacchettare legnare ecco 19.10 e arriviamo al giorno di oggi Romano si rivela l'eletto a sua moglie aveva 23.642 giorni di vita quando la incontrò a Milano diciamo Deo che sono numeri che rivelano tutto il prendere pieno corpo 23.000 dell'assoluto che avanza in tutte le sue sei vie 600 e riguarda 42 cifre tutte quelle segrete di Dio secondo la tesi nella cabala ebraica sul nome segreto di Dio stava andando a Milano e cosa assai rara si imbatté senza volerlo nella sua maestra guida barra giuda e si rese conto che era un segno della benedizione di Dio che il D in cui finalmente stava andando la sua moglie a dirle ci siamo dovuti lasciare solo per volere di Dio perché io ti amo ancora Dio gli parasse davanti la sposa di Cristo quella notte Ro ebbe un'estasi religiosa sentì fortissimo l'amore di Dio per lui e di lui per Dio 20.10.2002 la data di domani aspettavate me Romano si svela alla chiesa dei santissimi Pietro e Paolo di Saronno al decano Centemeri dice che è l'eletto l'atteso Emanuele a 23.643 D e sono il corpo 23.000 e l'energia 44 resa presente in 43 volte una unità a denominatore in tutte le vie 600 Romano dice che nella notte era caduto in estasi e aveva chiesto a Dio che cosa dire alla chiesa su chi fosse lui quando si era alzato al mattino sapeva che doveva annunciarsi con chiarezza quel giorno la chiesa ambrosiana sembrava inattesa di quell'evento Baruch parla di chi sa tutto e ha scrutato la sapienza con l'intelligenza e eccoci gli rispondono le stelle e nel Vangelo i giudei chiedono proprio a Gesù fino a quando terrai l'animo nostro sospeso se sei il Cristo dillo apertamente e Gesù ve l'ho detto e non credete ecco leggiamo le letture che erano proprio nella liturgia ambrosiana quel giorno dal libro del profeta Baruch Israele quanto è grande la casa di Dio quanto è vasto il luogo del suo dominio è grande e non ha fine è alto e non ha misura la nacquero i famosi giganti dei tempi antichi alti di statura esperti nella guerra ma Dio non scelse costoro e non diede loro la via della saggezza perirono per la loro insipienza chi è salito al cielo per prenderla e farla scendere dalle nubi chi ha attraversato il mare e l'ha trovata e l'ha comprata a prezzo d'oro puro nessuno conosce la sua via nessuno pensa al suo sentiero ma colui che sa tutto la conosce e l'ha scrutata con l'intelligenza è lui che nel volger dei tempi ha stabilito la terra e l'ha riempita d'animali lui che invia la luce ed essa va che la richiama ed essa obbedisce con tremore le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono egli le chiama e rispondono eccoci e brillano di gioia per colui che le ha create egli è il nostro dio e nessun altro può essergli paragonato egli ha scrutato tutta la via della sapienza e ne ha fatto dono a Giacobbe suo servo a Israele suo diletto per questo eccetera il Vangelo Giovanni 10 versetti da 22 a 30 in quel tempo ricorreva a Gerusalemme la festa della dedicazione era d'inverno Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano fino a quando terrai l'animo nostro sospeso se tu sei il Cristo dillo a noi apertamente Gesù rispose loro ve l'ho detto e non credete le opere che io compio nel nome del padre mio queste mi danno testimonianza ma voi non credete perché non siete mie pecore le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono io do la vita io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano il padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del padre mio io e il padre siamo una cosa sola parola del signore come potete vedere e come ho scritto quel giorno dopo di essere stato in estasi e avere chiesto a Dio che cosa devo dire alla chiesa arrivo in chiesa e c'è un vangelo in cui chiedono a Gesù ma dici chi sei tu ecco vedete lo stesso vangelo per bocca di Gesù quel giorno si è pronunciato mentre io mi pronunciavo al Monsignor Centemeri dicendogli che quello che si aspettava sarebbe venuto a liberare veramente gli uomini si è rappresentato in me ecco io domani celebro 14 anni esatti che io l'ho fatto sapere alla chiesa non sono stato cacciato dalla chiesa io sono un cristiano che è rispettato nella mia parrocchia conoscono tutti bene quello che io credo e quello che penso mi sono confessato tante volte e alcune di queste confessioni io le ho rese anche pubbliche